Esistono i piani B e C, ma li teniamo per noi. Ci sono confronti costanti e continui con tutte le leghe e ipotesi alternative in base alle possibilità che ci presenterà il calendario. Lo dice il presidente della FGC Gabriele Calavini al termine del Consiglio federale in merito alla seconda ondata di coronavirus, che sta mettendo in grande difficoltà il nostro paese e di conseguenza il mondo del calcio e il proseguo dei campionati. Siamo in emergenza e dobbiamo farci trovare preparati, ma l'ottimismo deve sempre esserci nella nostra programmazione. Il problema a quel punto non sarebbe solo per il calcio, conclude il numero uno del calcio italiano. Le prossime settimane saranno dunque decisive in tal senso. Le domande per i contributi, per le associazioni, società sportive e partitevia partiranno nei prossimi giorni. Abbiamo inserito definitivamente i codici ad eco mancanti e ora ci rientrano tutti. Lo dice il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora durante una diretta a Facebook. I contributi, secondo il nuovo decreto del governo, sono raddoppiati. I mesi passati sono stati erogati circa 30 milioni di euro a circa 16.000 ASD e SSD. Adesso riceveranno il doppio della scorsa volta, fino a 60.000 euro per le realtà più grandi e anche le partite IVA. Per chi non aveva fatto domanda la scorsa volta. Dalla giornata di oggi si è aperta una finestra sul sito di Sport e Salute fino al 17 novembre. Chi invece ha ricevuto il contributo non dovrà inoltre domanda. Dopo il 17 si chiuderà la finestra per chi non ha cano in delocazione da pagare e se ne aprirà un'altra soltanto per chi dovrà pagare delle utenze.